La prossima innanzitutto i vaccini che saranno dispensati ai medici di base saranno i vaccini Astra innanzitutto e i vaccini Moderna per le persone anziane e non deambulanti che sono più maneggeri di Pfizer e quindi più utilizzabili presso gli studi dei medici di base. Con questo accordo si estende quindi la rete dei punti vaccinali in tutta la provincia. Abbiamo oggi attivi 42 punti vaccinali distribuiti su tutta la provincia. Ci accingiamo ad aprirne altri 70 quindi per cercare di raggiungere i 158 paesi almeno per la maggior parte e con i medici di base riteniamo di essere così capitali di raggiungere anche i paesi del cilento interno che diventano difficoltosi da raggiungere specialmente per la popolazione fragile e per la popolazione ultraottantenne non deambulante.